La Procura regionale della Corte dei Conti ha notificato un invito a dedurre al Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, al Sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, e ai predecessori, Raffaele Lombardo e Diego Cammarata. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal Movimento 5 Stelle ed è condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Corte dei Conti. Riguarda il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata. Oltre agli amministratori pubblici, sono coinvolti anche ex assessori e dirigenti comunali e regionali. Al Governatore Rosario Crocetta viene stimato risarcimento danni da 4,3 milioni di euro, all'Euluca Orlando 6,1 milioni, all'ex Governatore Raffaele Lombardo 1,9 milioni di euro e 179 mila euro a Diego Cammarata, agli ex assessori Giuseppe Barbera 3 milioni e Cesare Lapiana 2 milioni. Tra i burocrati, l'ex dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti Marco Lupo, 1,1 milioni di euro, in qualità di commissario delegato per l'emergenza rifiuti, insieme ai colleghi Pietro Lucchesi e Giuseppe Pirrone. Immediata la risposta del sindaco Orlando. A seguito di un esposto presentato dal Movimento 5 Stelle, la Procura della Corte dei Conti ha doverosamente aperto un'istruttoria. Fornirò ogni necessario chiarimento, tenuto conto peraltro che tale servizio non era gestito dal Comune di Palermo ed essendo gestito da un commissario regionale su disposizione di un provvedimento del Governo nazionale. Per la Procura della Corte dei Conti, Crocetta, Orlando e gli altri indagati nell'inchiesta sui rifiuti hanno omesso di svolgere le doverose attività e assumere le opportune iniziative necessarie al fine di ricondurre la gestione dei rifiuti del Comune nell'ambito della legge nazionale comunitaria. E questo in sostanza è il cuore dell'atto d'accusa. Ciascuno, in base al proprio ruolo, avrebbe contribuito a questo caos. Crocetta e Lombardo sono chiamati a rispondere del danno perché un'ordinanza del 9 luglio del 2010 attribuiva al Presidente della Regione in carica il ruolo di commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza in atto nella Regione nel settore della gestione dei rifiuti. L'ex dirigente generale Marco Lupo è coinvolto invece nella qualità di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi alla raccolta differenziata. Orlando, Cammarata e gli ex assessori sono chiamati a rispondere del danno in quanto il Comune riveste il ruolo di gestore del servizio della raccolta differenziata, oltre ad avere il compito, scrive la Corte, di verificarne lo stato di attuazione. Nel caso dell'amministrazione comunale la Procura Contabile parla di grave e costante violazione di legge verificatasi per anni nello svolgimento di un servizio cruciale del Comune, qual è appunto la raccolta differenziata dei rifiuti di cui i sindaci e i assessori competenti non potevano disinteressarsi in quanto direttamente responsabili della speciale cura dell'essenziale bene pubblico dell'igiene urbana. E in un altro passaggio, molto duro, il Procuratore contesta la colpa grave ai rappresentanti di Regione Comune per l'inescusabile inerzia, trascuratezza, negligenza e imperizia dimostrate sia dai responsabili della gestione commissariale sia dagli amministratori comunali competenti nel mancato assolvimento dei propri compiti, con gravi violazioni di precise disposizioni comunitarie e nazionali.